Siamo nel cuore di Taranto, siamo al cospetto della villa Peripato, in quello che un tempo ospitò il carcere di Tarto. Siamo nell'ex convento di Sant'Antonio. Ci troviamo nel chiostro più grande della nostra città. A cura della soprintendenza tutto ciò è tornato alla luce nel suo splendore originario. Siamo nella seconda metà del 1400. I principi Orsini decidono di realizzare questo grande manufatto a disposizione del culto dei Tarantini. Poi i secoli, i secoli che danneggiano tutto, che danneggiano anche la storia, ma che oggi ritorna preponderante questa testimonianza a disposizione della città. E infatti a fine mese, qui nel grande chiostro, ci sarà un bel concerto a cura degli amici della musica. Quindi un momento importante che mette assieme anche le speranze di ripresa della città, con l'utilizzo dei fondi economici necessari per il difficile, ma vediamo bellissimo, lavoro di riqualificazione e ristrutturazione. Un grande lavoro che per la soprintendenza cosa ha comportato? Ha comportato un impegno per il ministero finanziario notevole perché è cominciato nel 2007, mi pare, più o meno, e una somma totale di quasi 8 milioni di euro. In più anche un impegno culturale perché è la sede dei laboratori di restauro e dei depositi archeologici. Prima era la sede, diciamo, come soprintendenza archeologica dei laboratori e dei depositi, adesso della soprintendenza unificata. È tutta la memoria storica del territorio. Così l'architetto Maria Piccarreta, direttore della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. Noi abbiamo sfruttato il progetto di valorizzazione del ministero, che vede l'apertura straordinaria serale di una serie di monumenti, inserendo questo complesso negli ultimi 10 giorni, in concomitanza con le giornate europee del patrimonio. Quindi apriremo dal 21 fino al 25, più o meno, con degli incontri di avvicinamento. Quindi tutti i miei funzionari che hanno lavorato e diretto i vari lavori, hanno avuto insomma dei ruoli nell'apertura, racconteranno la loro esperienza e tutto quello che è stato fatto come lavoro. In più chiuderemo con il 23, ci sarà la prova generale di questo concerto del Barbele Sevilla e poi le due giornate proprio di concerto, grazie ad un regalo che ci ha fatto il Festival Pasello degli Amici della Musica. A dirigere e curare i lavori per la riqualificazione dell'ex convento di Sant'Antonio, davvero un patrimonio per Taranto e per tutta l'Italia, l'architetto Augusto Oressa, direttore della soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici delle province di Taranto, Brindisi e Lecce. Un grande lavoro che vi ha impegnato tantissimo in tanti anni e in silenzio. Sì, abbiamo lavorato in silenzio, però finalmente adesso veniamo fuori, apriamo tutto la città, quindi basta il silenzio. Noi abbiamo lavorato per oltre cinque anni su questo immobile, naturalmente non in maniera continuativa perché è sempre in relazione ai fondi disponibili, però questi ultimi fondi, che sono fondi PON, ci hanno dato la possibilità di dare finalmente la volata finale. Quindi negli ultimi due anni e mezzo siamo riusciti a completare quella parte che già comunque avevamo avviato, avevamo già cominciato a conoscere questo edificio che era stato completamente cancellato dalla sua destinazione ultima a carcere. Grazie a tutti.